Musica Benvenuto Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Allora, iniziamo subito parlando di agricoltura perché in queste ultime settimane abbiamo visto la protesta degli agricoltori, quella che ormai viene definita e conosciuta come protesta dei trattori. Lei lunedì ha incontrato gli agricoltori a Bruxelles, a che punto siete? Buongiorno Olivia, ben ritrovati alla nostra Europa, è un appuntamento che riprendiamo in questi mesi che poi ci accompagneranno alle elezioni europee. Beh, allora, intanto c'è da dire che naturalmente tutti abbiamo visto i trattori, in Italia li abbiamo visti un po' dopo, noi anche un po' meno, perché in Germania, in Francia e in altri paesi europei erano molto arrabbiati anche con i loro governi, gli abbiamo tagliato i sussidi per il gasolio agricolo, altri motivi anche nazionali, da noi erano arrabbiati soprattutto con l'Europa, giustamente io credo, perché in realtà in questi anni, che cosa è successo a Bruxelles? È successo che in nome di un ambientalismo ideologico un po' mal interpretato, diciamo che con la scusa dell'ambiente, si è pensato di introdurre delle norme che vanno a penalizzare l'agricoltura, con una sorta di pregiudizio, cioè quello per cui l'agricoltore viene considerato un inquinatore, una presenza quasi nociva nel ecosistema agricolo, mentre invece gli agricoltori svolgono una funzione assolutamente insostituibile. Poi naturalmente tutti quanti noi vogliamo un mondo più pulito e anche un'agricoltura più sostenibile, ma dobbiamo fare in modo che le nostre aziende siano competitive. E allora è assurdo continuare a imporre delle norme di questo genere, perché siccome il mondo ha fame e i cittadini devono essere sfamati, l'alternativa alla produzione delle nostre imprese agricole è importare dei prodotti agricoli di minore qualità, meno salubri e realizzati in paesi dove l'agricoltura è meno sostenibile che in Italia e in Europa e fare di fatto una concorrenza sleale ai nostri stessi agricoltori. Oppure c'è chi si vuole lanciare nelle nuove frontiere delle farine di insetti o del cibo sintetico, che a me un po' spaventano, francamente non piacciono, ma quella è l'alternativa. Invece noi dobbiamo garantire la sopravvivenza della nostra agricoltura. Chiaramente è un settore che soprattutto con le crisi internazionali, con la guerra, eccetera, avendo dei costi fissi molto alti, ha ridotto i margini di reddito per gli agricoltori, motivo per cui protestano. Adesso che cosa sta succedendo? Che finalmente, dopo le proteste e dopo anche alcuni voti che abbiamo fatto noi al Parlamento europeo, che siamo stati minoranza su questi temi in tutti questi anni, in questi ultimi mesi, forse perché si avvicinano alle elezioni, cambia un po' la sensibilità anche di chi prima votava in un modo, adesso vota in un altro, ma va bene, se cambia un'idea è sempre una cosa positiva, si è deciso per esempio di interrompere, di sospendere la norma che voleva tenere a riposo obbligatoriamente il 4% dei terreni coltivabili, che voleva dire ovviamente ridurre la quantità di cibo e di prodotti realizzati in Europa. E poi si sta finalmente aprendo la possibilità di rivedere la politica agricola comune che è stata votata tre anni fa, cercando di sburocratizzare, di rendere più semplici tutti gli adempimenti, per fare in modo che questi soldi, che sono i pagamenti che l'Unione Europea destina agli agricoltori, possano effettivamente arrivare. Invece cosa è successo, e chiudo su questo in questi anni, è che è stato sovraccaricato, diciamo, di norme ambientali, il pagamento della PAC, si chiamano così, politica agricola comune, che cosa è successo? Che alla fine gli agricoltori, soprattutto i piccoli e i medi agricoltori, che non hanno il personale per fare tutte queste pratiche burocratiche, che alla fine rinunciano a chiedere i soldi della PAC che gli spettano, perché è troppo complicato chiederla. Ecco, quindi bisogna assolutamente andare in questa direzione, e sarà, guarda, uno dei temi su cui si giocheranno poi le prossime elezioni europee, tutto questo tema dei green, su quale sia la strada su cui andare, no? Un green a tutti i costi o un green sostenibile per le aziende e per i cittadini? Sarà uno dei grandi bivi dell'8 e 9 giugno, quando si voterà. Perché hanno anche detto che sono dei privilegiati gli agricoltori, questa è un po' la critica. Ma guarda, no, io penso questo. Allora, è vero che una parte, diciamo adesso intorno al 34% del bilancio europeo viene destinato alla politica agricola comune. In passato era di più, partivamo anche da percentuali superiori al 40%. Quando venne fondata la politica agricola comune aveva due obiettivi. Il primo, quello di assicurare la sicurezza alimentare, cioè l'approvvigionamento di cibo per i cittadini europei. E il secondo, quello di garantire un reddito adeguato agli agricoltori. È chiaro che se per le condizioni esterne il reddito non è più adeguato, la PAC viene meno a uno dei suoi principi fondativi. Quindi è assolutamente necessario che per fare in modo che vengano prodotti di cibo di qualità, sicuro, sano, com'è il cibo europeo comparato a quello che viene prodotto nel resto del mondo, ci sia un sostegno al reddito degli agricoltori. Altrimenti non è sostenibile economicamente la produzione agricola. Quindi è imprescindibile. Se noi vogliamo preservare quello che si chiama settore primario, si chiama primario non per caso, non possiamo considerarlo l'ultimo anello delle nostre scelte. Dobbiamo metterlo in cima alle priorità della nostra agenda politica. Non è stato così per questi anni e per questo gli agricoltori si arrabbiano. Io sono stato a trovarli anche nei presidi che hanno fatto. L'uvedì hanno fatto una manifestazione a Bruxelles, c'era il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura che ha fatto qualche passo avanti nella direzione giusta. Io credo bisogna fare molto di più. Adesso volevo chiederle della guerra tra Israele e Hamas. Ormai sono passati cinque mesi, vediamo manifestazioni praticamente quotidiane, filopalestinesi e insomma più recenti gli scontri di Pisa. Cosa ci dice? Ma guarda, intanto noi abbiamo fatto una scelta a livello nazionale, il governo l'ha fatta, di non vietare le manifestazioni, come invece è stato fatto in altri paesi europei. perché è fatta in alcuni paesi la scelta di evitare la possibilità di manifestazione estremista e vietando in assoluto i cortei. Da noi invece la libertà di manifestare, la libertà di dissenso è assolutamente garantita e questo credo sia giusto anche rivendicarlo con orgoglio perché siamo una democrazia matura e non dobbiamo avere paura di chi manifesta. Però le manifestazioni devono essere svolte nella legalità. Si è fatta molta polemica per i fatti che abbiamo visto a Pisa, chiaramente quando uno vede degli studenti manganellati, con qualche manganellata di troppo c'è una reazione, però bisogna stare attenti a non delegittimare le nostre forze dell'ordine. Io voglio ricordare dei numeri. Noi abbiamo avuto dal 7 ottobre, il giorno in cui Hamas ha scatenato l'attacco contro Israele, ad oggi in Italia più di mille manifestazioni di sostegno alla causa palestinese di varia natura. e soltanto nel 3% di queste manifestazioni noi abbiamo avuto incidenti e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che vuol dire che l'ordine del pubblico è stato gestito in maniera corretta da parte delle nostre forze dell'ordine e abbiamo avuto più di 26, mi sembra, agenti feriti, molti meno manifestanti feriti. Questo vuol dire che ci sono dei professionisti della violenza che utilizzano la scusa delle manifestazioni per la Palestina per attaccare la polizia. In questo contesto noi dobbiamo punire se ci sono stati degli abusi da parte di alcuni agenti e ci sono delle verifiche in corso. Questo sempre deve essere ed è giusto così perché loro sono i tutori della nostra democrazia, devono comportarsi bene, ma noi dobbiamo difendere chi ci difende. Non possiamo delegittimare chi ci difende perché altrimenti succedono delle scene come quella che abbiamo visto a Torino. L'altro giorno in cui 50 autonomi dei centri sociali hanno assalito una volante della polizia mentre degli agenti stavano portando via un clandestino pluripregiudicato perché doveva essere espulso sono stati malmenati e hanno cercato a calci e pugni di estrarre e salvare questo pregiudicato dall'arresto e i poliziotti quasi inermi che cercavano in qualche modo di difendersi e di reagire. Questo non è accettabile. Su questo Giorgia Meloni è intervenuta e ha detto insomma dobbiamo ripristinare questo rispetto delle autorità. Esatto, perché il rischio è quello che delegittimando chi ci difende poi si lasci campo libero a chiunque esaltati, estremisti possono sentirsi in qualche modo autorizzati, legittimati, coccolati e difesi nell'attaccare la polizia. Questo non può essere una democrazia, bisogna naturalmente che l'ordine venga garantito. Abbiamo tre minuti e mezzo, volevo parlare delle europee ormai siamo a 100 giorni dalle europee e il voto quanto è importante per cambiare l'Europa? Eh sì, oggi 99 giorni, 100 ieri, oggi 99 8 e 9 giugno, cominciamo a ricordarlo perché si vota a metà sabato e tutta la domenica e quindi siccome finiscono le scuole in quei giorni 6, 7 giugno, lo dico da genitore che si inizia a sentire mamme e papà che dicono vabbè finiscono le scuole, andiamo il liturio, andiamo cercate di rimandare la partenza se potete alla settimana dopo perché non si voterà di lunedì si vota soltanto nel sabato pomeriggio e tutta la domenica un voto importante un po' per due motivi secondo me, uno perché sarà comunque il primo voto nazionale dopo le elezioni politiche del 2022 quindi sarà inevitabilmente anche un giudizio sul governo su questo anno e mezzo di governo Meloni sull'opposizione, è un giudizio politico naturalmente che va insieme alle europee e poi però un voto importante anche per l'Europa perché abbiamo due visioni di Europa diverse che si confronteranno, abbiamo parlato prima dei temi dei green e questo sarà un tema molto importante l'idea di un'Europa che da un lato qualcuno vorrebbe con queste enorme folli, penso alle auto green le case green, gli imballaggi, tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni un'Europa desertificata dal punto di vista produttivo quindi senza fattorie, senza stalle, senza industrie senza imprese perché questa è la strada su cui si sta andando e chi come noi invece vuole sì l'ambiente più pulito naturalmente ma ci vuole l'uomo dentro cioè noi vogliamo che le nostre aziende continuino a produrre che i nostri agricoltori abbiano il giusto reddito continuino a darci delle cose buone da mangiare cioè questo è il primo bivio poi c'è l'altro grande tema che è quello dell'immigrazione noi abbiamo bisogno di un'Europa che ascolti i suggerimenti di Giorgia Meloni che faccia una politica di rimpatri comuni che faccia una politica di protezione delle frontiere esterne quindi freni le partenze anche attraverso nuovi investimenti nei paesi di partenza come sta facendo il governo italiano con il piano Mattei fare in modo quindi che ci sia un controllo dell'immigrazione ci siano flussi regolari per chi viene qui può essere integrato e lavorare nelle nostre aziende e ci sia invece l'impossibilità di entrare o il rimpatrio una volta che sono qui per chi è qui in maniera irregolare non possiamo integrarlo quindi questi saranno alcuni dei temi su cui si giocherà la partita delle elezioni europee è importante che l'Italia conti sempre di più oggi noi abbiamo un'Italia che finalmente è molto ascoltata sui tavoli europei lo posso testimoniare direttamente c'è un'Italia forte, presente che è una cosa che prima non avevamo neanche sotto il governo Draghi paradossalmente che era molto autorevole nella persona di Draghi ma molto frammentato per la maggioranza vario pinta che lo sosteneva oggi c'è un governo politico di 5 anni rispettato con una premier che è capace di interloquire con tutti ed è protagonista sui tavoli europei e dobbiamo rafforzare questo protagonismo con il voto dell'8 e del 9 giugno Grazie, grazie all'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e a presto Grazie a tutti, buona giornata Grazie a tutti